Secondo Corinzi 13,13 A me è un passo che spesso noi leggiamo e diciamo, specialmente alla fine dei nostri culti, la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Amen. In questa fase la nostra benedizione, è chiamata anche la benedizione apostolica, è alla fine di un epistolo, la seconda epistola dei Corinzi, e anche per questo noi la ripetiamo alla fine di un culto. Ma potrebbe essere benissimo una benedizione che si mette all'inizio del culto, perché è una benedizione completa. E così noi possiamo veramente ringraziare il Signore perché abbiamo questa eredità da parte del Signore, questa parola che ci dà questa benedizione. E sapete, non è a caso il fatto che viene detto proprio in questo termine, perché viene detto che la prima cosa è la grazia del Signore Cristo Gesù, la seconda cosa è l'amore di Dio e il nostro Padre, e la terza è la comunione dello Spirito Santo. Ci vorrebbe spontaneo dire la cosa al contrario, l'amore di Dio e il nostro Padre, la grazia del nostro Signore Cristo Gesù, la comunione dello Spirito Santo, ma c'è un motivo ben preciso per cui invece l'ordine è proprio in questa maniera. E quindi in questa sua brevità abbiamo una grande ricchezza di rivelazione. Come dico, la prima cosa è la grazia del Signore Gesù Cristo. E il primo bisogno dell'uomo, la prima nostra necessità senza la quale noi non possiamo fare niente, senza la quale non possiamo giungere alla salvezza, è proprio la grazia che noi riceviamo in Cristo Gesù. Questa grazia ci è assicurata da Cristo perché Gesù è morto al nostro posto, perché Egli ha fatto il sacrificio redentivo per la nostra vita. E così Egli è il Redentore, Egli è il Mediatore ed è il dispensatore di questa grazia a tutti coloro che gliela chiedono con fede. La grazia è una cosa che ci appartiene, amén. La grazia è una cosa che viene nella nostra vita e nella grazia ne comprendiamo, la seconda cosa importante, nella grazia comprendiamo quanto Dio ci ama. Solo attraverso la grazia che riceviamo sentiamo che il nostro cuore diventa acceso, diventa palpitante, riconoscendo che Dio ci ama, amén. Che il suo amore è così grande da concederci appunto una grazia, che è una grazia, come sappiamo, è immeritata. L'amore di Dio è l'amore del Padre, è la sorgente della grazia. E infatti in Giovanni 3,16 leggiamo che Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo negento figliuolo affinché chiunque crede a lui non perisca, ma abbia la vita eterna. E quindi la condizione per noi è che questa grazia che ci viene da Dio attraverso Cristo Gesù è una grazia che ci porta nella riconciliazione, è una grazia che ci porta nella benedizione, è una grazia che ci fa comprendere l'amore paterno, è una grazia che ci porta nella comunione con Dio. E ringraziamo il Signore per tutto questo, amén. L'amore del Padre è manifestato proprio attraverso il sacrificio del suo figliuolo Gesù. Ma poi abbiamo la comunione dello Spirito Santo. Dillo con me, la comunione dello Spirito Santo. Ascolta queste parole, ogni parola è molto importante. La comunione dello Spirito Santo. La prima parola che noi abbiamo è la comunione. Cioè, non è la comunione con lo Spirito Santo, ma è la comunione dello Spirito Santo. Ora, molte volte noi parliamo, diciamo, dobbiamo avere comunione con lo Spirito Santo. Non è che è una cosa sbagliata. E dobbiamo capire quindi che cosa significa comunione. Comunione vuol dire tante cose. Se voi andate nel vocabolario, intorno alla comunione ci saranno molti e ci sono molti sinonimi. Per esempio, ditemene qualcuno. Come chiamereste comunione con un'altra parola? Vediamo. Stare insieme. Poi, qualcun'altra parola? Condividere. Poi? Armonia. Poi? Relazione. Poi? Unione. Famiglia. Va bene? Essere famiglia. La famiglia è la vivere in comunione. La Chiesa ha bisogno di vivere nella comunione. Se non c'è comunione, è vero, non c'è la comunione e anche condivisione. Amen? Siamo d'accordo? Infatti oggi quando ci si sposa, il pastore deve chiedere, tu vuoi la separazione o la condivisione dei beni? E qualcuno sceglie la separazione, qualcun altro sceglie la condivisione dei beni. La maggior parte degli sposi comunque preferiscono oggi avere la comunione. E ringraziamo il Signore perché la comunione è molto importante. Ora, una cosa che voglio semplicemente dire è che tu puoi avere comunione con qualcuno che conosci. Amen? Siamo d'accordo su questo? Non puoi avere comunione con qualcuno che non conosci. Non puoi avere comunione con un divo dello spettacolo che vedi in televisione, anche se ti piace, anche se ti fa ridere. Ma con lui la comunione non ce la puoi avere. È una cosa troppo distante da te. Tu però puoi avere comunione con qualcuno che ti stima. Sì? Tu desideri avere comunione con qualcuno che ti stima, con qualcuno che ti ama. E quindi la comunione comprende proprio questi aspetti che abbiamo detto. La comunione comprende la partecipazione. La condivisione richiede unità. Non puoi essere in comunione se non sei in unità. Va bene? L'unità ci porta nella comunione. E la divisione ci porta nella mancanza di comunione. Quando siamo nella divisione siamo separati gli uni dagli altri. Ma quando viviamo nella comunione abbiamo desiderio di stare insieme. Amen? È vero? Allora, la comunione è anche un segno dell'amore che noi abbiamo gli uni verso gli altri. Quanti sono stati fidanzati qua? Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Lo sono stati, lo sono, insomma. Allora, si dice che il primo amore non si scorda mai, no? E se voi siete stati innamorati, volevate avere comunione con la persona che avete amato. Sì o no? È vero? E mi sembra che abbiamo passato tutti attraverso questo sistema. Che dopo che, così succedeva con me e con Laura, che dopo che ti sei visto per tre ore vai a casa e prendi il telefono. È vero? È vero o non è vero? Ma come? E mia mamma diceva, ma hai parlato per tre ore con lei? Sì, però io adesso... E poi spesso succede che stai al telefono a parlare di niente. Ma l'importante è che tu ti senti. E anzi, poi succede questo, che quando tu invecchi un po' e magari ti sposi, e magari passano molte cose, qualcuno ti dice, ah, ma tu non mi ami più. Perché non mi telefoni più. E le cose cambiano. Però in realtà non è così. È vero. Quando c'è una buona comunione, quando c'è una buona intesa, le cose maturano. Forse quando siamo all'inizio delle nostre relazioni, vogliamo sempre parlarci e vederci, ma poi nel tempo cambia. Ma questo non cambia il nostro rapporto, la nostra comunione. Anzi, impariamo a conoscerci sempre meglio. E lo stesso vale anche nella Chiesa. Nella Chiesa più stiamo insieme e più dovremmo volerci bene. Più stiamo insieme e più sentiamo il bisogno di stare insieme. Quando c'è una vera comunione, questo è il desiderio. Quando c'è una vera comunione, quando ti trovi bene nella casa di Dio, quando hai desiderio di venire fratelli, non aspetti l'una volta all'anno per venire nella casa di Dio. Amen? Ma ci vieni con il cuore desideroso di vedere i tuoi fratelli, le tue sorelle. Forse solo per quella volta alla settimana, però hai desiderio di venire nella comunione della Chiesa. Amen? E così il Signore ci parla ancora questa sera. La comunione, la condivisione. La comunione è lavorare insieme per gli stessi scopi. Bisogna condividere la nostra vita e i nostri scopi. E quando tu condividi questo sei nella comunione. E quando si parla appunto di comunione, significa spesso condividere anche tempo, denaro, sforzi, tutto quello che noi abbiamo. Questo è molto importante per noi, perché la Chiesa di Dio è fatta proprio di questa comunione, di questa condivisione, la coinonia. Però, una cosa voglio dire, che la comunione non è automatica. Possiamo dire amen? La comunione richiede una scelta. È come l'amore di Dio. Richiede una scelta. Richiede di impegnarti a vivere la comunione. Perché non puoi semplicemente pensare che gli altri debbano stare in comunione con te e tu non fare niente. Sarebbe troppo comodo. Ma questo è come mettersi davanti alla televisione e guardare cosa fanno loro e tutti addormenti. A me succede spesso ultimamente. Però la verità è che la comunione è un impegno personale a crescere in una relazione, a sforzarsi per condividere tempo perché no denaro o sforzi per perseguire gli stessi impegni. E quindi io credo che noi dobbiamo capire bene cosa significa essere in comunione. E credo che la parola ce lo fa proprio comprendere. Perché sin dall'inizio del libro degli Atti, sin dall'inizio della Chiesa, si parla proprio della comunione. Ora, si erano perseveranti nelle preghiere, nell'insegnamento, nella comunione, è vero. E quindi questa è una relazione importante tra di noi. Nel popolo di Dio ci deve essere una comunione che vive, che continua, che sta insieme. E quando, ritornando all'esempio di una coppia di fidanzati, quando loro si sposano, non si sposano per stare una a nord e una a sud, ma si sposano perché vogliono stare nella stessa casa, nello stesso luogo, e anche nello stesso letto. Voglio dire, questo è molto importante, di condividere se stessi di uni verso gli altri. Così, nel naturale, abbiamo necessità di vivere questo, c'è un impegno per vivere questo, ma nello spirituale, noi abbiamo questa relazione che ci viene proprio dalla dichiarazione della parola di Dio, che noi abbiamo la comunione dello Spirito Santo. Fai una domanda vicino a te, sei in comunione con lo Spirito Santo. Ognuno di noi dovrebbe dire amè. Questo è importante, sì. La comunione dello Spirito Santo. Ora, per essere in comunione con qualcuno, abbiamo detto, dobbiamo conoscerlo. E molte volte le persone dicano, lo Spirito Santo, questo grande sconosciuto, ma non deve essere così per noi. Amè? Lo Spirito Santo non è il braccio di Dio, come qualcuno dice. Lo Spirito Santo non è la forza attiva di Dio. Lo Spirito Santo non è uno spiritello che si muove chissà dove, chissà come. No. Lo Spirito Santo è una divina persona. Lo Spirito Santo è una divina persona. Dio il Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo. Ed è una divina persona. E questa divina persona vuole entrare in comunione con ciascuno di noi. E così, la cosa importante è proprio questo, che l'iniziativa non la prendiamo noi. Per questo parla della comunione dello Spirito Santo. Se voi guardate in questo versetto, si parla della grazia di Cristo Gesù. Chi è che prende l'iniziativa di farci grazia? Chi è che ha preso l'iniziativa di morire per noi? È stato Gesù. È Lui che ci iliargisce la grazia. Noi non meritiamo niente della grazia. Siamo d'accordo su questo. Noi semplicemente riceviamo la grazia che viene attraverso il sacrificio di Cristo Gesù. Ci riconosciamo peccatori e abbiamo bisogno di riconoscerci peccatori. Perché se non ci riconosciamo come peccatori non possiamo ricevere la grazia. Non è vero che non dobbiamo chiedere perdono. Non è vero che non dobbiamo scusarci davanti a Dio. Dobbiamo andare davanti a Lui e dire, padre, come dice, è vero, come dice nella parabola del figlio, padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sei più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma ecco che il Padre ti accoglie. Ecco che Gesù è morto perché noi potessimo ricevere la grazia. L'amore di Dio. Abbiamo meritato l'amore di Dio? No. È la sua iniziativa. Lui ha deciso di amarci. Lui ha deciso di amarci se siamo belli, se siamo brutti, se siamo calvi, se non lo siamo. In qualunque modo che tu sei, Dio ti ama. A me? Dio ti ama. E questo è importante per noi comprendere che Dio ha preso l'iniziativa di amarci e che Lui continua ad amarci nonostante i nostri molti errori, nonostante le nostre incapacità, nonostante quello che noi siamo, Lui continua ad amarci perché Dio è anche l'amore. È amore. E così riguarda lo Spirito Santo e la comunione dello Spirito Santo. È Lui che prende l'iniziativa per avere comunione con ciascuno di noi. Sai, tu desideri avere comunione con lo Spirito Santo, sì? Va bene? Però la cosa interessante è che lo Spirito Santo lo desidera più di te perché Lui desidera veramente avere comunione con ciascuno di noi. Lo Spirito Santo è colui che desidera che noi entriamo in questa perfetta relazione che noi riceviamo attraverso di Lui questo amore che viene da Dio che riceviamo la grazia nella nostra vita e che noi possiamo così vivere in questa stretta relazione di grande benedizione per noi. Amen? Quanti vogliono essere benedetti? Vediamo, eh? Allora, io ti consiglio questa cosa. Inizia ad avere una relazione più profonda con lo Spirito Santo. Amen? Tutti coloro che hanno avuto una relazione più profonda con lo Spirito Santo che hanno capito come funzionano un po' queste cose hanno ricevuto una grande benedizione. Mi ricordo della testimonianza di un uomo di Dio un pastore australiano che lui pregava ed è stato visitato dallo Spirito Santo e lui ha realizzato che in questa stanza mentre lui stava pregando è scesa come una nebbia è scesa come qualche cosa molto particolare che si poteva praticamente come tagliare con un coltello è vero? E lui ha sentito nel suo cuore la voce di Dio ha capito che lo Spirito Santo era proprio lì ed a quel momento la sua vita è stata completamente trasformata. Ho sentito la testimonianza dell'Evangelista Dario Scoppo quanti conoscono Dario? Va bene è un ragazzo veramente simpatico ed è un ministro del Vangelo e lui ha anche testimonia che ad un certo punto non era soddisfatto della sua vita cristiana anche se aveva conosciuto il Signore anche se veniva fuori da un'esperienza molto speciale e lui ha detto ha detto a sua moglie io voglio incontrare il Signore io lo voglio incontrare e anche lui nel suo cuore diceva no io voglio di più non voglio stare solo su questo livello molti magari ci contentiamo di venire in chiesa di essere fedeli di lavorare per il Signore è una cosa bellissima ma ad un certo punto lui si è rinchiuso nella stanza ha detto io non uscirò da qui fino a che non avrò incontrato il Signore fino a che non avrò avuto una risposta da Dio è stato coraggioso perché qualcuno di noi non ce l'avrebbe mai fatto chissà non esco da qui ma uno inizia a pensare ma se poi ho fame ma se poi ho un bisogno se poi mi sento male ma lui è stato coraggioso ha detto io non uscirò da qui fino a che non avrò ricevuto una risposta da Dio e così si è rinchiuso nella stanza e dopo alcuni giorni non mi ricordo esattamente quanti mi sembra qualche giorno tre giorni dopo tre giorni ha ricevuto una potente visitazione anche lui racconta questa stessa cosa che è venuto come una nebbia una nube nella sua stanza e in questa nube era così densa e si sentiva così profondamente la presenza di Dio e il Signore gli ha parlato anche in quel momento e da allora il suo ministerio ha preso forza e potrei raccontare di altre persone io credo che noi abbiamo bisogno di sperimentare di più della comunione dello Spirito Santo perché mentre lui entra in comunione con noi ci favorisce lui dice io voglio stare in comunione con te lui dice Paolo Laura Sandra Maria io voglio stare in comunione con te io credo che molte volte noi abbiamo un po' di idee confuse quando ero in Inghilterra pensavo proprio a questo avevo un turbinio di pensieri e una delle mie domande era proprio questo Dio Padre Dio Figlio e Dio Spirito Santo ma come come facciamo a rapportarci con questo Dio così grande e così diverso eppure un unico Dio sapete ci sono dei momenti in cui la testa inizia a girare vi succede a voi in qualche maniera e lui dice sì sì ah non sono il suo loro mi incoraggia allora questa cosa e all'inizio i pensieri venivano e non trovavo una risposta questa era la cosa più drammatica perché io non riuscivo a trovare una risposta e dicevo Dio Padre sì Dio è Padre va bene però figlio ok ma lo Spirito Santo ma dove lo mettiamo questo Spirito Santo e a un certo punto è arrivata come una rivelazione Dio è Padre amè tutti noi sappiamo che Dio è Padre è vero e che Lui ci ama per questo amore ha fatto sì che venisse Gesù il suo figlio ma Gesù ha detto io non vi lascio orfani amè ah improvvisamente si è aperto il cielo ho detto ho capito allora il papà il figlio e la mamma e in effetti è così lo Spirito Santo ha una funzione materna avete mai riflettuto su questo sapete perché dico questo perché nel giorno della creazione dove era lo Spirito Santo incubava la terra è vero lo Spirito Santo ora non voglio cerchiamo di capirci non è che lo sto dicendo quella è mamma quella è babà quella è figlio cerchiamo di capirci voglio dire che comunque lo Spirito Santo ha una funzione materna anche Dio il Padre ha una funzione materna è chiaro no? cioè Dio è Dio non si può dire questo è maschio questo è femmina se noi entriamo nell'eresia è chiaro però guardate considerate che per noi che abbiamo bisogno di immagini di figure di riferimento Dio si è sempre rivelato attraverso i nomi attraverso le figure attraverso certe realtà è vero perché noi siamo limitati nella comprensione allora Dio deve scendere al nostro livello per farci comprendere chi Lui è e chi invece noi siamo amè? e questo riflettevo che sin dall'inizio della creazione lo Spirito Santo aleggiava sopra le acque Dio disse il progetto della creazione era del Padre la parola è stravenuta fuori ma chi è che ha tirato fuori la creazione è stato lo Spirito Santo e dal caos è divenuto il cosmos qualcosa che ho ordinato e poi guardate andiamo nel Nuovo Testamento nel Nuovo Testamento abbiamo la nascita di Cristo Gesù e quando l'angelo arriva da Giuseppe gli dice anche da anche da Maria dice non temere perché dice Giuseppe quello che è generato in Maria è dallo Spirito Santo capite meglio adesso cosa voglio dire io spero di spiegarvi in qualche maniera lo Spirito Santo ha una funzione per noi lo Spirito Santo dice io non vi lascerò orfani manderò a voi un altro paracleto e dobbiamo capire quindi credo che la maggior parte di noi siamo credenti da diversi anni sappiamo che cosa significa la parola paracleto aiutatore consolatore avvocato il paracleto è quello che tu chiami perché ti venga ad aiutare perché venga a intervenire al tuo posto consigliere guida e tutto questo è il paracleto Gesù dice io manderò un altro come me un allos paracletos non un eteros paracletos non qualcuno di diverso che mi rappresenterà ma proprio uno come me e Gesù nel suo viaggio terreno ha fatto miracole ha risuscitato ha parlato ha insegnato e in questo tempo lo Spirito Santo fa le stesse cose che faceva Gesù quante si ricordano del passo che Gesù disse è utile che io me ne vada perché se non me ne vado io non manderò a voi il consolatore il paracleto questa parola consolatore in italiano è molto limitata perché la parola paracleto è molto più vasta ma dice il Signore io non vi lascerò da voi è utile che io me ne vada ed è vero perché Gesù poteva stare in un posto se stava in Galilea non poteva stare a Gerusalemme se stava a Gerusalemme non poteva stare a Nazareth ma lo Spirito Santo oggi dove è? lo Spirito Santo è in ogni posto è in ogni luogo lo Spirito Santo è quello che compie in noi la funzione della rigenerazione porta la vita in questo senso lo Spirito Santo ha anche una funzione materna nei nostri confronti perché sì è la parola di Dio che ci genera il seme della parola di Dio viene seminato in noi ma chi ci convince di peccato di giustizia e di giudizio è lo Spirito Santo colui che porta in noi la vita e la rigenerazione è lo Spirito Santo Gesù disse a Nicodemo tu non puoi entrare nel regno di Dio se non sei nato di acqua e di spirito amè? è la volontà di Dio il Padre che tutti gli uomini siano salvati è il sacrificio di Cristo che ci porta nella redenzione ma è lo Spirito Santo che ci porta nella nuova creazione amè? senza lo Spirito Santo noi non possiamo essere generati da Dio senza lo Spirito Santo non possiamo entrare nella nuova creazione non possiamo sapere del regno di Dio perché nello Spirito Santo noi entriamo nella nuova dimensione della grazia e infatti nella legge non c'era lo Spirito Santo amè? nella legge c'erano solo alcune persone che potevano ricevere lo Spirito Santo pochi 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 eletti i profeti e non sempre lo Spirito Santo dimorava nella loro vita noi sappiamo della storia di Saul Saul si legge non è anch'esso tra i profeti Saul era andato a cercare di uccidere Davide e prima ne ha mandati uno e poi ne ha mandati due e tutti sono andati nel luogo dove c'erano i profeti e tutti sono stati riempiti dello Spirito Santo e alla fine ci è andato pure Saul e lui non è andato con grandi intenzioni non era molto santo Saul siamo d'accordo su questo non era molto santo non aveva grandi intenzioni sante nei confronti di Davide ma quando lo Spirito Santo era nel mezzo profeta lui è caduto a terra ed ha profetizzato per giorni e giorni e da lì il detto non è anche Saul tra i profeti amen lo Spirito Santo nel vecchio patto veniva solo in alcuni momenti particolari ma Gesù ci ha dato una promessa nell'Evangelio di Giovanni lui sarà con voi e sarà in voi amen ricorda la persona vicina a te lo Spirito Santo è con te ed è in te amen è con te ed è in te ripeto è con te ed è in te amen dovrei gridarlo è in te lo Spirito Santo non è chissà dove è in te perché tu sei il frutto dell'amore di Dio della grazia di Dio ma la potenza dello Spirito Santo scende perché tu hai detto sì Spirito Santo io voglio avere comunione con te amen e in questo tempo Gesù dice io non vi lascio orfani abbiamo una mamma abbiamo un padre nel cielo abbiamo un fratello che è Gesù a cui ci possiamo abbracciare Gesù è nostro fratello Gesù è nostro amico amen Gesù dice io non vi chiamo più servi vi chiamo miei amici Gesù è il primo genito di molti fratelli dillo con me io sono un fratello di Gesù dillo io sono un fratello di Gesù dillo perché non hai capito cosa significa questo per molti di noi Gesù è distante è così per molti di noi molte molte chiese si prega Gesù come se fosse la più grande divinità di questo mondo no Gesù è vicino a te Gesù è tuo fratello amen Gesù è tuo fratello Gesù non può essere qui la sera lo sai sì Gesù non è qui cosa sto dicendo dico la verità la destra del padre Gesù non è qui Gesù è alla destra del padre è risuscitato ed è alla destra del padre e che cosa fa non mangia panini alla destra del padre ma la Bibbia dice che lui intercede per noi amen però ha detto io non vi lascio orfani ed ecco che noi abbiamo questa realtà e la parola del signore romani capitolo 8 ci dice che noi non sappiamo pregare chiedi alla prossima tu sei a pregare o no di chiedi se ti dice di sì ti dice una bugia perché la Bibbia dice che non sappiamo pregare noi non sappiamo pregare ma 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 dillo con me ma ma lo spirito santo intercede per noi con sospiri ineffabili amen chi è qui con noi oggi Gesù dove sta e Dio dove sta il padre dove sta ai 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 questa è una domanda difficile adesso qualcuno mi dice alla sinistra di Gesù se Gesù è alla destra il padre sarà alla sinistra questi sono i sillogismi moderni ok Dio è in ogni luogo amen perché Dio è il creatore amen Dio è colui che ha progettato Dio è colui che ci ha eletti e predestinati prima della fondazione del mondo ma tu puoi capire questa lezione tu puoi capire questa predestinazione solo se sei ripieno dello spirito santo amen allora lo spirito santo è in mezzo di noi lo spirito santo dice la parola è con noi ed è in noi e questa è la promessa di Gesù per ciascuno di noi e sapete io sono stato insegnato in una maniera che per molto tempo non ho capito perché mi si insegnava e mi si diceva lo spirito santo con voi è la nuova nascita e lo spirito santo in voi è il battesimo nello spirito santo e io ho creduto questo per tanto tempo però poi ho detto ma come fa lo spirito santo a stasene fuori se lui è qui se lui è il nostro consolatore se lui è il nostro aiutatore se vuole stare in questo rapporto intimo con noi non può esserci un momento in cui è fuori è un momento in cui è dentro perché lo spirito santo è sempre con noi ed è sempre in noi amen allora io sono contento per ciascuno di noi che può realizzare che Gesù ha detto voi riceverete atti 1.8 voi riceverete potenza e mi sarete testimoni perché lo spirito santo è la dynamis la potenza di Dio che viene manifestata la chiesa vive per mezzo dello spirito santo amen la chiesa oggi ancora oggi vive per mezzo dello spirito santo quando noi ci dimentichiamo dello spirito santo diventiamo religiosi perché solo lo spirito santo che è qui in mezzo di noi ha quella forza creatrice ha quella forza dinamica ha quella forza spirituale di cambiare la tua vita perché solo lo spirito santo può darti una nuova nascita solo lo spirito santo può darti una forza per tutti i giorni che tu vivi nella tua vita amen solo lo spirito santo ti consola e come fa a consolarti la parola del signore dice che lui ti consola perché lo spirito di dio attesta al nostro spirito che noi siamo i bastardi di dio no lo spirito santo attesta che noi siamo i figlioli di dio amen e per essere figlioli di dio dice tutti quelli che sono romani 8 tutti quelli che sono condotti dallo spirito di dio sono figlioli di dio quindi la condizione si le qua non si può dire la condizione indispensabile diciamolo un po' meglio è perché tu possa essere un figlio di dio e che tu possa avere la comunione dello spirito santo perché quando lo spirito santo è nella tua vita allora lui ti parla e bisogna vedere se tu sei pronta ad ascoltare lui ti incoraggia lui ti consola e vivi nella sua volontà perché la funzione dello spirito santo per noi è quello che ci ha detto Gesù lui prenderà del mio e ve lo annuncerà e tutte le cose che io ho detto tutte le cose che ho detto lui ve le insegnerà ho molte cose disse Gesù ancora da insegnarvi ma non sono per ora la vostra portata Giovanni capitolo 15 è vero ma quando verrà lui lui vi insegnerà tutte le cose che devono 16 grazie tutte le cose che devono avvenire comunque capitoli sono 14 15 e 16 se mi ricordo bene è vero ok gloria a Dio sono i capitoli fondamentali per la nostra conoscenza della persona dello spirito santo che voglio dire voglio dire che la nostra vita ha bisogno di crescere in questa dimensione soprannaturale amén il paracleto divino è in mezzo di noi e se noi non impariamo a vivere con questa grazia nella nostra vita saremo molto molto religiosi molto lontani dal Signore molto freddi anche nella nostra vita e sapete se c'è una cosa che il diavolo cerca di fare è proprio di portarci lontano dalla comunione con il nostro Dio dalla comunione con lo Spirito Santo e quindi possiamo dire grazie Signore per il tuo Spirito molte volte parliamo della comunione dello Spirito Santo ma la verità è che noi possiamo vivere quando siamo nello Spirito non solo lo Spirito è in noi è più esatto dire che non tanto lo Spirito Santo è in noi anche se Dio c'è la promessa ma che per vivere la vita cristiana noi dobbiamo vivere nello Spirito e questo è importante per noi che lo Spirito Santo ci porti a essere veramente quello che è il desiderio di Cristo che noi siamo una sola cosa lo Spirito Santo viene per portarci nella benedizione nella comunione e come a comunione con me a comunione con te con te con te con te con te e tutti insieme noi facciamo parte del corpo di Cristo e così lo Spirito Santo ci porta nell'unità ci porta a essere parte del corpo ci porta a realizzare le benedizioni che noi abbiamo in Cristo Gesù e abbiamo anche la benedizione che lo Spirito Santo sparge sopra di noi i suoi carismi e i carismi sono per la edificazione della Chiesa così ringraziamo il Signore questa sera amén per la benedizione che abbiamo la grazia del nostro Signore Cristo Gesù l'amore di Dio il nostro compadre e la comunione dello Spirito Santo e certamente se lo Spirito Santo ha comunione con te tu avrai anche comunione con Lui amén metti un impegno a essere in comunione con lo Spirito Santo metti un impegno in questo metti un impegno a cercare di capire la voce dello Spirito Santo in tutto quello che tu fai che tu fai